In realtà siamo il gruppo cover di placcaggio, siamo gli attaccaggio, veniamo da Pedro Colle. In realtà siamo gli attaccaggio, veniamo da Pedro Colle. In realtà siamo gli attaccaggio, veniamo da Pedro Colle. In realtà siamo gli attaccaggio, veniamo da Pedro Colle. In realtà siamo gli attaccaggio, veniamo da Pedro Colle. In realtà siamo gli attaccaggio, veniamo da Pedro Colle. Grazie! 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 Grazie!